Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada sulla 1, ci sono rallentamenti per traffico tra BV1 Variante e Calenzano e per materiali dispersi tra Firenze e Sud e Incisa Reggello, tutto in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla Firenze Mare verso Firenze, ci sono due chilometri di coda per incidente tra Prato Ovest e Prato Est e rallentamenti tra Prato Ovest e BV1 11 a 1 per traffico intenso. Arriviamo alla FIPI lì dove troviamo code per lavori tra Montelupo e Ginestra verso Firenze e in carreggiata opposta tra Montopoli e Pontedera Est. Prima di salutarci per il traffico ferroviario, l'aerostar Frecciarossa 95-12 Salerno-Milano Centrale sta viaggiando con 21 minuti di ritardo, il transito a Firenze-Santa Marenovella al momento previsto alle 10.12 salvo recupero. Muoversi in Toscana Infa è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!